È stupenda quando Matteo Marzotti insieme ai suoi colleghi sono venuti da noi in federazione, dalla nostra delegazione, io ho chiamato subito Mario Tracci, consigliere, dicendo guarda succede questo, vengo subito perché è un avvenimento bellissimo, come dico io, perché si ricorda perlomeno quei sacrifici che fanno non quanto i giocatori ma quanto i dirigenti stanno facendo, le famiglie, i genitori stanno facendo praticamente per questo sport che forse, lasciatemelo dire, è lo sport più bello del mondo. Queste le parole di Gianfranco Petrucci, presidente della Federazione Gioco Calcio a sezione di Arezzo, riguardo la prima edizione del Gran Galà del Calcio di Lettanti di Arezzo. Un'iniziativa nata dalla volontà della cooperativa di giornalisti New Media AR e che per una notte ha trasformato la Casa dell'Energia di Arezzo in Casa del Calcio. Sono stati oltre 200 i partecipanti all'evento che hanno animato la giornata, allenatori, dirigenti sportivi, giocatori e presidenti, una festa dello sport, del fair play, della voglia di questo territorio di portare il calcio ad alti livelli. Un momento completamente dedicato al calcio dilettantistico e alle tante squadre che nella scorsa stagione hanno portato in campo ogni domenica gambe e cuore per dare il massimo, dalla terza categoria fino all'eccellenza passando per i giovanissimi e arrivando fino agli arbitri. Una lunga kermesse che dal pomeriggio fino alla notte ha premiato le squadre retine che durante il campionato si sono distinte. Una prima edizione che è facile pensare avrà un seguito vista la giusta intuizione. L'appuntamento è stato seguito in diretta streaming da Arezzo Notizie e ripreso dalle telecamere di Arezzo TV. La prima messa in onda questa sera, venerdì 15 maggio alle 21 e poi in replica, sabato 16 maggio alle 18 e domenica 17 alle 22 e 30. Grazie a tutti!